Maxi sequestro nell'area di un resort di lusso ancora in fase di realizzazione sulle colline valdarnesi in un territorio a cavallo tra il comune di Buccine e quello di Laterina Pergine. L'accusa nei confronti di una società è quella di aver commesso numerosi abusi edilizi. Già nello scorso marzo i carabinieri avevano fatto alcuni controlli ed il comune aveva ordinato la demolizione di alcune costruzioni abusive ma i lavori erano comunque andati avanti ed erano state realizzate altre opere senza le necessarie autorizzazioni. Così qualche giorno fa sono scattati sigilli in via preventiva di varie porzioni del complesso. I carabinieri forestali di Montevarchi assieme ai colleghi del gruppo ambiente della procura di Arezzo hanno effettuato il sequestro convalidato dal GIP Giulia Soldini a seguito dell'inchiesta aperta dal pubblico ministero Laura Taddei relativa ad alcune opere svolte in un'area di oltre 175 mila metri quadrati. Opere secondo gli accertamenti sprovviste delle relative autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. La società proprietaria secondo gli inquirenti non solo non avrebbe mai interrotto i lavori ma ne avrebbe realizzati di nuovi tant'è che nel corso dell'ispezione disposta dalla procura il sequestro è intervenuto non solo nei confronti delle opere precedentemente accertate ma si è esteso anche ad una nuova ed ulteriore strada con parcheggio e a una pavimentatura in Malta cementizia di recente realizzazione.